ok siamo qua ritrovati io e il buon manu e siamo pronti per una sfida particolare stavolta faremo una gara dove il traguardo ma dove il traguardo guardo balotta anche in me dobbiamo andare da da dove siamo noi vibor vibor da vibor a balotta gustoso sei pronto hai vai fai conto la rovescia piede sul gas 3 2 1 via ti supero col mio pulmino drogato vai dietro guarda lo tegame tanto perderai stavolta sai no io sono davantissimo sono davantissimo vanno troppo piano questi tegami sono due caffettiere oh 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 ah ah bastardo stai illecito oh oh attenzione ah bentistante gami ignobile oh no sono sviato mi sono sviato si no no stai prendendo eccolo ah no sei una merda mi fuzzo oh no vai 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 ah no sono proprio una merda oh no nel terriccio non vanno niente ma cosa stai facendo smettila di sbatterti come un povero disperato ora sto giocando con i pali ora ti distruggo aspetta vai 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 mi tiro una mina oh no si è trasformato in in karmageddon questa vieni qua vieni fermo codardo ti tampona adesso devo so la prima volta che ti fermi la rai eccolo lì eccolo lì ho fatto impennare ieri per te seta molto di film per un momento aspetta un momento critico qualche per me attenzione ah questo è perché sono dietro dietro sole vai 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 con la mucca sulla ponte al presa o svolta un tavolo c'è un tavolo un certo c'è un'altra cosa strana mezzo la strada c'è un maiale 1 1 1 0 1 quello era la cosa del cane la cuccia a ma che ci sarà bobbi e vai stardo si è sbattuto e non è ancora un piano di gente cosa la strada poco o no no ognuno di presa ho preso la capra o no ho preso il camion peggio per speggio stardo sono distante di una classe folle corsa e rivero per primo traguardo ma mai ormai se in un bagano e tu adesso c'è da curva il curvone c'è il curvone qui questa è pericolosissima per me ha mai sminchiato la idea lo sbagliato lo sbagliato ti riprendono il tempo è il mio momento il mio momento è il mio momento ti sto alle costole comunque sono alle costole oh qua qua le sminchiamo qua sminchiamo eccolo là muori merda lo sapevo io dove sei? ah è dietro il bastardo oh no oh no è difficilissimo questo pulmino oh guarda ho buttato oh il muro oh no ho distrutto il motore no sono anche morto non è così no ah sei un pirlo aspetta che vengo a infierire sul tuo relitto fermo fermo che ti tampono un po' prendi ignobile ignorante scoppi anche tu eh non posso vuoi solidarietà? secondo round dai secondo round facciamo il secondo round eccoci tornati io e il buon Manu questa volta abbiamo sempre una sfida automobilistica però è un po' diversa perché qualcuno di voi si ricorderà del videogioco anni 90 Carmageddon dove le macchine si dovevano distruggere le une con le altre ecco probabilmente finirà esattamente così quindi ci sono dei mezzi di ricambio sparsi un po' per per l'aeroporto sei pronto? vai vai ok via 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 ok finirà molto presto sospetto questa storia ok se ci prendiamo di fronte adesso siamo fritti siamo fritti ok ora ti giro oh non c'è il freno a mano dannazione sono andato a utilizzarlo ma non c'è adesso ti prendo di lato bastardo guardalo guardalo come fugge è un tegame eh oh oh ah no lo ho preso lo prendono no no non mi hai preso bastardo è difficile fare sta roba aspetta aspetta adesso vado vado di ehi cacchiarola ok ok mi allontano di più adesso vedi ti insegno io sudicio merdaccia eccolo 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 oh 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 bastardo mi hai già ingiallito una ruota oh cacchio è solo l'inizio aspetta adesso ti insegno dov'è il sudicio ah è lì aspetta aspetta adesso ti insegno io come si sfasciano i radiatori dove sei dove è andato ah eccolo là adesso ti imparo alla lezione lurido lurido bastardo stegame eccolo lì eccolo lì eccolo lì benissimo aspetta che ti prendo bellissimo bellissimo secondo round tra pochi secondi via ok dai siamo pronti per il secondo round secondo round via via stavolta ti sposti basta ti sposti ti sposti oh no ho rotto tutto io oh no oh oddio devo prendere non vale spararsi no non vale spararsi eh oh mi stai spara bastardo ti gambizzo eh vai via al sudicio bastardo ah ho trovato il mio il mio mezzo sostitutivo io forse ti vengo addosso col pick up ti vengo addosso questa volta una cosa dove sei sporco dove sei dove puoi essere andato non mica puoi essere chissà la quanto lontano ah sei in trattore si si sono sul trattore oh bastardo ignobile ha riparato la macchina si basta te adesso senza pietà ti investo adesso sai basta adesso subirai la mia vendetta vendicosa ma ti investo intanto cosa puoi non vale bastardo non mi devi sparare vieni qua ah sei lì ah sei lì bastardo oddio tanto adesso le prendi ti investo sai dove stai andando guardalo lì lui vieni qua sono uno squalo che gira intorno alla sua presa ti ho preso ah mi sono incastrato vieni qua oh eccolo lì eccolo lì che cerca di fuggire ah bastardo ti prendo bastardo qua vado troppo piano ah mio dio vado più piano di te oh cazzo guardalo lì che cerca di prendere la macchinetta di merda c'ho anche il pizzo dietro che schifo che cazzo è la macchina rumena pakistana che brutto vieni qua oh no sono mezzo scassato ma è orribile sì su diciamo ora ti prendo te ti ho lisciato vieni qua vieni qua vieni qua oh oddio sono morto sul mio schermo mi sono tipo sbattuto sul volante sono morto oh mio dio che brutta esperienza io mi sono tipo distrutto la macchina ok terzo round il meglio dei tre ci vediamo tra un attimo ok terzo ed ultimo round siamo uno a uno vai 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 te la faccio pagare questa sai ignobile tegame vieni qua non ti ho preso sul mio schermo non ti ho preso però ora ti sono dietro e te la farò pagare eccolo lì eccolo lì di poco bastardo si questi sono bellissimi da guidare vieni qua vieni sudicio bam è ancora bam hai preso si aspetta adesso ti insegno la lezione guardalo lì guardalo lì che scorazza lui tutto allegro oh bastardo ti ho schifato se tiri il freno mentre giri va di brutto temo oh oh mio dio il mio è ancora integro il tuo che condizioni è te il mio oh mi hai schifato mi stai prendendo questo giro no guarda che non mi stai prendendo eh tu te stai prendendo no non mi stai toccando sul mio schermo non mi prendi no allora prendo la tua lag si prendi la mia lag di sicuro però ora prendo te io basta oddio ma che è successo ho tipo fatto un mini volo bastardo ma non è che sono indistruttibili questi macchini mi sembra strano eh no 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 si stanno piano piano ingiallendo ma di poco però spettacolo ah insomma hai preso infamico ferisci oh 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 no 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 pianino ok sono ancora stabile qua finirà che ci ribaltiamo perché adesso finirò il freno ti faccio ah mi sono fatto questa è una manovra altamente tecnica per farsi superare e poi sordido si si stanno lentamente ingiallendo ingiallendo adesso ti insegno la lezione più cara della tua vita oh mio dio ti sei ribaltato stavo ribaltato stavo ribaltato oh oh ok questa potrebbe essere la fine ci siamo incastrati ok no siamo ancora vivi ok ora tu distraiti per un attimo perché io sto facendo qualcosa che non ti riguarda quindi tu distraiti no 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 tu stai cambiando veicolo distraiti per un attimo distraiti che stai facendo infedele non mi fido tu sei distratto in questo momento eh sono distratto eh sono distratto bravo continuo adesso a distrarti ah se tu il pulmo di me ah già io non ti posso tamponare ah già io non ti posso tamponare adesso vediamo che succede sentiamo oh ti sei morto no no me l'aspettavo il pulmo non va bene il pulmo non va bene no ok decisamente questo è il quarto round poi si ci sta dai ci sta il quarto round tra poco ok quarto round l'ultimo l'ultimo con i boost i boost sei pronto ok let's go let's go oh prevedo un bel frontalone con i controfiocchi oh siamo ancora in te oh le ruote oh le ruote ok ok si va 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 bastardo dove sei sudicio ok ho trovato il mio obiettivo che cosa stai prendendo tu io niente come niente sei ancora col pullman oh cacchio il bastardo non si è distrutto no l'ho riparato prendi il camion va veloce mi sa il camion adesso ti insegnerà la lezione della tua vita che ha un paraurti davanti che sembra un parabufali selvaggio ti ho ti ho ti ho gommizzato proprio io hai la tua occasione per andare ultimo ah bastardo ah ah bastardo ah non ce la fa ah sordido adesso è un gommettino sordido ah ah tegame vai via bussa via su di ciò ah vai si ti insegno io sono incastrato nel pullman oh no ah aiuto oh cazzo sento sparare addosso dove è il tegame ignobile adesso ti carico aspetta tu aspetta che ora la paghi tanto non mi buchi sono rinforzato io ma com'è sto ma sono rinforzati prendi oh oddio ah tegame ancora in vita questo camion è distrutti ha le gomme di prendi è un camion militare questo con le palle mica guarda guarda la tua morte bastardo ah finirai le munizioni si sono un po no non sono un po niente leggermente gialle forse ma non è giusto sono eh eccolo ah ah mori tegame tu yeah oh ok direi vuoi fare cinque o ti accontenti di questa sconfitta tegame vai ok avevamo già detto che era l'ultimo ma questo è davvero l'ultimo sei pronto? io prontissimo stavolta ti insegno la lezione dai dai via 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 go 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 con la moto voglio vedere se non ti rompo qualche ossicino pieno oddio sono morto io oh no vitto vittoria 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 non so qual era il punteggio il punteggio finale mi stai rivivendo oh no bastardo sudicio non posso riviverti oh no ok via ok questo cos'è vinto il sesto questo è il sesto forse o anche di più questo è il sesto round per tua volontà perché sei morto siamo pari probabilmente dai andiamo io sto già sono già partito pieno sono partito pieno un po' cazzo questo leggermente controllo o siamo morti entrambi vabbè questo mi sembra un buon modo per concludere la cosa e con questo concludiamo siamo schiantati come due mosche cazzo va che scena triste ok spero che vi siate divertiti e per noi è tutto credo alla prossima cazzata alla prossima ciao ciao ciao